Uomini e donne Uomini e donne Uomini e donne oggi non va in onda, ecco quando torna Oggi Uomini e donne non va in onda, torna il 3 aprile 2018 Maria De Filippi e tutto lo staff di Uomini e donne è in vacanza per le feste pasquali Le nuove puntate del Trono Classico e Dover tornano non da martedì 3 aprile 2018 La trasmissione pomediana più amata dai telespettatori italiani questoggi non verrà trasmessa Per questo lunedì 2 aprile, Canale 5 farà a meno dei tronisti, dei corteggiatori Dei cavalieri e delle dame Nella programmazione Mediaset è infatti prevista la messa in onda Deo film di John Manonet, qualcosa di personale Per capire come sono andate a finire le cose tra Sara, Nicolò, Milillo Far, Mariano e i loro rispettivi corteggiatori bisogna attendere ancora un giorno Lo stesso vale anche per i senior, anche loro super seguiti ed amati dal pubblico Da martedì 3 aprile 2018 la messa in onda di Uomini e donne torna regolarmente dalle 14.45 alle 16.10 su Canale 5 Intanto, per questoggi, il pubblico si interesserà alla trama di qualcosa di personale La protagonista è una donna di nome Sally che per realizzare il sogno di divenire una grande star del giornalismo decide di lasciare il Nevada e trasferirsi a Miami Le cose per la giovane donna si stravolgeranno nel momento in cui conosce Warren Justice Lui è caporedattore di una rete locale che alla fine si innamora di Sally Insomma, ci attende una grande e bellissima storia d'amore, senza dubbio ricca di inaspettati e sorprendenti colpi di scena Subito dopo, alle 16.10, andrà in onda il consueto appuntamento con il Daytime dell'Isola dei Famosi Stefano De Martino ci aggiornerà come sempre sugli sviluppi e le ultimissime novità riguardanti i naufraghi dell'Honduras Uomini e donne torna il 3 aprile 2013 Per domani, 3 aprile, è attesa una nuova puntata di Uomini e donne Al momento non è ancora chiaro se andrà in onda il trono classico o quello over Attendiamo ulteriori dettagli Intanto, potete leggere le anticipazioni dell'ultima movimentata registrazione dedicata ai più giovani Porco Subito Espirale Ssecreti Erika Guardate Guardate Guardate